C'è una signora, ma grassa, che non gli riesce a dimagrire, non c'è verso, e lì prova di tutte, prova tutte le diete, non c'è verso. Allora va da un dottore e dice, dottore io non riesco a dimagrire, dice guardi signora io ho inventato una nuova dieta, se lei segue questa dieta qui, lei veramente vedrà che dimagrirà proprio in pochissimo tempo. E che dieta lei dice? Cioè praticamente è una dieta anale. Che senso? Praticamente lei non mangia più dalla bocca, ma mangia diciamo via anale. Ma via anale? Ma come, cioè lei mangia, non si preoccupi che poi dopo non sentirà più nulla, e anzi inizierà a sentire anche i sapori. Proprio, ma proviamo di fare questa signora. Ma posso mangiare tutto, tutto, torte anche, tutto, che c'è? Va bene. Che questa signora dopo un mese torna dai dottore, lì che fa così, no? Tutta così. Che gli fa allora come va? Eh va benissimo, sono diminuita 25 kg in un mese, porca miseria, parecchio. E continua a fare così, no? Dici, ma che gli crea qualche problema? No, no, assolutamente niente, anzi sento anche i sapori, sto proprio bene, dici. Ma le crea bruciore? No, no, assolutamente niente, ma prurito, no, no. E perché fa sartella a questa maniera? No, ma si di giunga. Grazie, bravo.